Marco Pirozzi, buongiorno Marco. Buongiorno, grazie d'invito. Benvenuto a Casa Rossini, benvenuto qua a parlare di una cosa di cui un po' tutta la città parla per oggi, diciamocelo tranquillamente. Insomma, è stato fatto un lavoro importante dal punto di vista della comunicazione e anche i giornali quotidiani oggi si occupano di questa idea importante, evento Il Cibo Ideale, ideata e sarà poi anche realizzata dalla Fondazione Francesca Pirozzi. Certo, sì, è stato un bel impegno, è stata un'idea che ci è venuta un paio di mesi fa di chiudere un capitolo di questa avventura con la Fondazione per aprire uno ancora più importante, per cui l'evento diciamo che è un po' lo spartiacque per continuare a fare attività in memoria di Francesca. Allora, esatto, spieghiamo, approfittiamo di questo spazio. La caratteristica di Casa Rossini è proprio questa, di avere un po' più tempo rispetto a un'intervista, rispetto comunque a un momento comunicativo, a uno spot, eccetera, per poter approfondire un po' e spiegare un po' come è andata, quali sono gli obiettivi, cosa c'è dietro questa idea che, come dicevo, ha invaso un po' tutto il campo della comunicazione in questi ultimi giorni. Immagino che adesso poco fa è passata la locandina, chiunque in questo momento sia l'ascolto in visione dirà, ecco cos'era, l'ho vista, il cibo ideale, questa cosa che abbiamo visto un po' dappertutto. Allora, raccontiamo un po', con tutto quello che può esserci anche di emotivamente delicato in questa vicenda, raccontiamo un po' come nasce questa idea, come nasce la Fondazione, che è nata poi come sviluppo di una associazione, prima associazione nel 2017, poi Fondazione, hai portato il libro. Insomma, prendiamoci questi 20 minuti per raccontare un po' in dettaglio tutto quanto. Sì, tutta la cosa è scattata, è stata creata in memoria di mia figlia, Francesca, che purtroppo era malata di linfoma, non è riuscita nella sua battaglia e nel 2017 abbiamo ricevuto dall'Università di Modena, perché lei studiava farmacia a Modena, una laurea alla memoria, perché lei era riuscita in tutto il periodo di malattia, doveva fare gli esami, aveva preparato la tesi, che all'ultimo momento aveva dirottato in alimentazione e in chemioterapia e da lì, con quella, l'aiuto dei nutrizionisti, Sher Stellati, abbiamo creato un libro e abbiamo fatto una associazione che poi è diventata Fondazione con un obiettivo ben preciso di fare delle cose utili. E tutto sommato comunque lo stimolo iniziale era un proseguire questa attività che Francesca, facendosi forza di quello che era un momento difficilissimo per lei, ha deciso di fare, cioè di interessarsi e di approfondire questo tema fondamentale che è legato al discorso dell'alimentazione anche in un campo che apparentemente, anche se sono diversi gli studi che sottolineano questo legame, apparentemente avrebbe poco a che fare con il problema oncologico. Beh, allora, sicuramente durante un trattamento di chemioterapia, insomma, quando una persona è malata, è chiaro che l'alimentazione è una componente fondamentale, cioè anche perché non si ha appetito, cioè ci sono tutta una serie di problematiche, chiamiamole tecniche, per cui il rapporto col cibo cambia. Poi il cibo può essere utile per aiutare anche in un processo di cura. È chiaro che poi l'alimentazione è di base, come dice uno degli oncologi che spesso è in giro con noi quando portiamo a parlare del libro in pubblico, noi abbiamo due cose fondamentali che ci entrano, che sono il cibo e quello che respiriamo e l'ambiente in cui viviamo. Per cui è chiaro che l'alimentazione è fondamentale anche per i non malati, ma è per quello che nel libro Il Cibo Ideale, oltre a una parte dedicata alla chemioterapia, con l'ausilio di Chef Stellati abbiamo anche dato dei tagli sulla sana alimentazione, quindi utile a tutti. Per cui la particolarità, diciamo, in qualche modo è questa, cioè aver preso questo studio, averlo fatto diventare un libro, aver cercato una collaborazione, delle collaborazioni, numerose collaborazioni importanti, non solo nel mondo della cucina in generale, del nutrizionismo, ma nel mondo degli Chef Stellati, proprio per dare un richiamo, per accendere più di un faro su questa iniziativa, e aver fatto capire anche che anche in quel mondo c'è la possibilità di avere un'attenzione a tutti quegli elementi fondamentali nell'ambito della nutrizione. Siamo quello che mangiamo, mai come in questo caso è uno slogan efficace. Assolutamente. Noi abbiamo preso Chef Stellati, appunto come dicevi, e ognuno ha dato la sua visione di cibo, per cui ha, con caratteristiche diverse, perché gli Chef arrivano da parti di taglie diverse, per cui chi parla di pesce, chi parla di carne, chi parla di altre cose, quindi con questi tagli diversi c'è veramente uno spaccato del cibo. Poi ognuno degli Chef Stellati ci ha regalato delle ricette, per cui il libro è anche utile per cimentarsi con delle ricette che sono un po' più complesse, perché gli Stellati si divertono a fare delle cose complesse, però insomma volendo ci si può arrivare. Il libro è stato realizzato, per cui è chiaro che la domanda è quasi superflua e c'ha dentro la risposta. Che tipo di reazione hai avuto quando hai cominciato a fare questa ricerca e questa ricerca di contatto con gli Chef? Allora, quando mi hai avuto l'idea ho detto cerco qualcuno che conosce gli Sei Stellati, perché io non li conoscevo. Oggi in televisione cambi canale, da qualsiasi parte c'è qualcuno che parla di cibo e sono sempre importanti. Mi hanno detto guarda è impossibile, perché non ce la farai mai, ormai hanno la gente, ormai sono diventate delle star. Io però sono un testone, ci ho provato. Il primo Stellato che ho contattato è stato Mauro Ugliassi di Senigallia, sono andato a un convegno, un cooking show, c'erano diversi Chef, sono andato, mi sono messo in fila, gli ho tirato la giacchetta, gli ho raccontato la storia e mi ha detto va bene mi piace e mi ha fissato l'appuntamento. Da lì è stata una cosa facile, quindi tutti gli altri, ormai diciamo che ero pronto all'avere l'ok, è stata veramente facile. A nessuno ho detto. Ecco, questo stavo per dire, perché ho seguito un po' la genesi di questa cosa. La particolarità è che hai probabilmente sfruttato il fatto che comunque la strada avevi imparato a conoscere, però ti sei fatto un punto di donore di non dire a nessuno chi era l'altro, chi c'era nella iniziativa. Perché da una parte volevo fargli una sorpresa, poi sai, non si sa mai, magari creo qualche conflitto, eccetera. Quindi ho realizzato il libro con tutti i vari pezzi, poi l'abbiamo stampato, editato come fondazione, abbiamo fatto tutto direttamente noi e a libro pronto, sono andato a ritrovarli tutti, a regalargli, per cui gli ho rubato un'intervista, una dedica particolare. Infatti io ho un libro in coppia unica con la dedica alle firme di tutti, quindi è un po' il nostro cimeglio che c'è rimasto, e tutti hanno scoperto con chi erano in compagnia. Ben felici, perché ovviamente poi si conoscono tutti, quindi la cosa è andata a buon fine. Tu di mestiere ti occupi di produzioni video, a te si deve turisti per caso, tanto per dire qualcosa che tutti i nostri telespettatori conoscono. Quanto ti ha aiutato questo essere un po' del mestiere nello strutturare questa specie di strategia? In realtà poco, perché è stata più una operazione di marketing, di vendita, di mettere in piedi dei pezzi, ma mossa da un entusiasmo altro. Io avevo un'altra leva che mi muoveva, che era quella di fare delle cose in memoria di Francesca, per cui probabilmente ho anche saltato degli ostacoli che c'erano senza vederli. Poi, nonostante mi occupo di comunicazione, ad esempio io ho trovato grandi difficoltà a promuovere il libro. Cioè mi sono detto c'è un libro, c'è una bella storia, ci sono gli share stellati, tutti lo prendono in mano. In realtà no, quindi devi fare la conferenza stampa, devi parlare con i giornalisti, che è un altro mondo rispetto alla pubblicità, comunicazione. E lì siamo stati fortunati, perché tanto ho imparato che le conferenze stampa si fanno a Milano. Cioè, se non la fai a Milano non funziona. Quindi ho scelto a Milano una location molto particolare, la galleria Vittorio Emanuele, tra l'altro quella dove c'è anche il ristorante di Cracco. Ho detto, non si sa mai che passa e vede. E ho invitato una decina di giornalisti rubando le mail, così, dai giornali, cioè quasi casualmente. La fortuna è stata che tra i giornalisti c'è stato un paio che hanno preso a cuore la cosa e nell'arco di una settimana eravamo su tutti i media d'Italia, tutti che volevano il libro, per cui la cosa è funzionata. Non è facile emergere con un libro in un panorama editoriale che le cifre danno con 80.000 nuove uscite all'anno e in questo momento con un tema che è uno dei più gettonati. Però volevo tornare a... Sì, però io anche lì potremmo, io potevo fare una cosa più facile, cioè pensare a un libro sull'alimentazione in generale. In realtà io ho voluto, ma lì proprio ho voluto, mettere in copertina, segnalare che c'era un'attenzione all'alimentazione nel presente oncologico, che è chiaro che va a spostare un po' il tiro. Qualcuno dice, ah ma io non sono malato perché non mi serve. Però in ogni caso siamo riusciti a muoverlo. Volevo tornare agli chef, senza fare i nomi. C'è stato qualcuno che ha detto, ah c'è anche lui, se lo sapevo non ero contento. Una volta ha avuto il libro nelle mani. No, assolutamente no. E qualcuno che invece ti ha rimbalzato proprio? Certo. C'è stato. Adesso ci pente. Secondo me sì. Cioè io c'è stato un giorno che ero in un luogo dove c'erano diversi chef che ho raccontato la cosa a un po' di persone. Perché io diciamo che ogni chef aveva una sua caratteristica. Per cui diciamo che fondamentalmente li avevo messi individuati già. C'era qualcuno che poteva essere doppio e mi ha rimbalzato. Dio tipo sì sì bella l'idea, però va bene. Ho scelto poi qualcun altro. Alla fine le scelte ottime. Certo, può capitare. Io ho conosciuto un commercialista che con un Graziano Rossi agli albori gli ha detto no non ho tempo di seguire il tuo ragazzino. Per cui insomma poi dopo rimangono queste cose nella vita. Allora, e siamo al libro. Il libro è pronto, è realizzato, comunque comincia a essere conosciuto, diffuso, venduto, ma è solo un passaggio, è un passo. Perché l'obiettivo in realtà, così come anche quello della manifestazione di sabato e domenica, è un altro in realtà. Sì, allora, io ho detto, ho preso dalle cose di Francesca il concetto dell'utile. Francesca faceva, donava il sangue, faceva la bagnina di salvataggio, cioè ha sempre fatto delle cose con questo occhio per gli altri nell'essere utile. Io ho detto facciamo delle cose utili, quindi il libro ha una sua utilità perché, ripeto, chiunque può leggere e avere delle informazioni. Abbiamo poi voluto pensare a uno scalino molto più alto, che era quello di, grazie alle vendite del libro, di individuare qualcuno a cui finanziare qualcosa, cioè i famosi diamo dei soldi alla ricerca, che però non volevo fossero così, dati a caso, perché spesso non si sa cosa succede. Quanto meno quando ero dall'altra parte, dico sì, poi perdi i pezzi. Io volevo qualcuno di vero, di fisico, delle facce. Mi sono messo a girare i conveni oncologici in giro per Italia e per caso, ma è stato veramente un caso, mi hanno parlato una sera di due ricercatori di Fano, Università di Urbino, Dipartimento di Biologia Molecularia di Fano, che avevano fatto degli studi, delle sperimentazioni di una cosa che era rimasta nel cassetto. li ho voluti incontrare e in un processo un po' lungo, effettivamente ci siamo, come dico io, hanno usato molto loro per capire se chi ero io e cosa volevo fare, io se loro erano quelli giusti, trovata la quadra, come si dice, l'Università di Urbino, ha fatto in qualche modo da garante, per me era l'elemento istituzionale, e loro mi hanno steso un progetto molto dettagliato, con dei tempi, per cui grazie al libro, grazie alle vendite del libro che abbiamo editato da soli, distribuito da soli, siamo riusciti a far partire la ricerca e continuiamo a sostenere. Quando ci siamo sentiti al telefono tu mi hai detto, è una ricerca con delle caratteristiche uniche al mondo, e io ti ho detto perché caratteristiche uniche al mondo, e ti ho detto perché è la prima volta che… Allora, di solito si parla di cose complesse, grandi meccanismi, grandi industrie, in realtà è una cosa che nasce veramente, come spesso succede nelle grandi cose, in cantina, in garage, in un piccolo laboratorio di una piccola università. Quando dico che finanzo un progetto all'Università di Urbino, dicono a Urbino, come per dire, ma perché c'è l'università, anzi, esiste Urbino, cioè quindi in realtà sì, e credo che pronti alla volontà e la tenacia delle persone fanno la differenza tante volte, quindi questa cosa nata in questo laboratorio, che è svincolata da qualsiasi interesse di qualsiasi natura, fa sì che sia una cosa unica, sia una cosa vera, che in questi due anni e mezzo ha preso forma, i risultati hanno dato, appunto, importanti risultati, sono state uscite delle pubblicazioni scientifiche, per cui siamo veramente vicini a completare il processo e a poter dire se quelle molecole nate nella cantina possono essere usate sull'uomo, per cui grande traguardo. Il tutto finanziato da una struttura sostanzialmente privata, non legata all'industria, non legata, e questa ne fa una particolarità. La nostra fondazione ha la sede legale dal commercialista, cioè non c'è una sovrastruttura con un ufficio, no, è tutto molto semplice, è tutto molto trasparente, siamo tutti volontari di questa cosa e lo facciamo, è chiaro che io probabilmente sono un po' il motore più importante perché penso a mia figlia ogni giorno in questa cosa, però lo facciamo con la passione di dire, facciamo qualcosa utile per gli altri. in questo periodo abbiamo poi creato anche un comitato scientifico che si è avvicinato a noi perché, altra cosa che io non immaginavo, quando abbiamo cominciato a presentare il libro, gente da tutte le parti d'Italia che ci scriveva, ci faceva delle domande, chiedeva cose, perché io ho detto, noi non siamo medici, io non sono un medico, perché io ho detto aiuto medici, quindi abbiamo messo in piedi un comitato scientifico che online, anche lì in modo totalmente gratuito, risponde a gente che pone domande legate all'alimentazione, sia perché è un processo di malattia o di cura, o meno, per cui questo per me è un'altra cosa molto importante, molto utile. Vedo questa cosa che mi stai raccontando come veramente un viaggio anche fisico, ti vedo a girare l'Italia, Milano, eccetera, per cui a questo punto una tappa di questo viaggio è arrivata nel prossimo fine settimana in maniera virtuale per tutti quelli che vorranno usufruire da tutto il mondo, ma molto fisica e molto reale per la realizzazione, esce questa iniziativa, questa manifestazione. Qui un po' però la tua esperienza ti è tornata. Sì, sì, un pochino sì. Qui siamo nel tuo campo, insomma. Sì, ma però sono matto abbastanza, perché comunque la prima volta io ho, di solito, ho mia sorella, che è complice anche lei in questa avventura, che lei è quella che mi dice no. Quindi io dico una ragazza e lei dice no, ma è impossibile che si faccia una roba del genere. E se mi dice no, per me è perfetto, la facciamo sicuro. Sì, io ho girato l'Italia da nord a sud, sono andato a presentare il libro in piccoli paesini e in cose grandi. L'anno scorso avevamo già iniziato, tentato, quantomeno un processo in giro per l'Italia, perché la mia idea era portare i contenuti, quindi gli esperti, in mezzo alla gente. Quindi renderla reale, quindi andare un po' oltre il libro. Abbiamo fatto due tappe, una a Bologna e una a Milano, poi purtroppo la pandemia ha bloccato tutto e ho sofferto molto per questa cosa, perché per me era importante. Quindi ho deciso di, un paio di mesi fa, forse meno, e ho scelto una data che è particolare, che è il 9 maggio, perché il 9 maggio è il compleanno di Francesca. Quindi, come il 9 maggio del 2017 l'Università ha fatto il regalo della Laura alla Memoria, E dicevi che non era coordinato, non era... È stata una cosa casuale. È stata una cosa casuale. Quest'anno ho detto, bene, gli facciamo un regalo d'altro genere. Per cui ho scelto la data per quello. E ho preso un po' quello che erano gli elementi di questo tour per l'Italia e ho detto, li metto in un grande evento. Fa due giorni a tema alimentazione con politici, nutrizionisti, chef, produttori, parliamo di carne, di vegano, di pesce, cioè a qualsiasi livello. Quindi salottini, tecnici, ma però condotti da dei giornalisti, per cui comunque piacevoli. La cosa sarà ovviamente online, perché la pandemia non ci permette ancora di essere totalmente liberi. La regia puntualissima ci sta facendo vedere la sequenza delle slide con tutti quelli che si è riuscito a coinvolgere in questa iniziativa. E tutto sarà fruibile online, sulla pagina Facebook della Fondazione e sui vari media complici, voi compresi, che si collegheranno e daranno agli spettatori, ai loro ascoltatori, o totalmente o alcuni stralci della cosa. Perché sono due giorni di diretta, praticamente, il filo conduttore è una diretta che si tiene appunto o continuativamente su alcuni strumenti, oppure attraverso collegamenti più o meno mirati e attraverso altri strumenti. Perché copre tutto, copre il web, copre la radio, la televisione, copre tutto. Sono due giorni, me li sono segnati, i giorni li so, ma gli orari, dalle 10 alle 19, giusto? Cominciamo alle 10.30 del primo di sabato, dove racconterò quello che stiamo facendo adesso, un po' da dove parte la storia, quindi ci sarò io, poi io sparirò e sarò dietro le quinte per riuscire a far funzionare tutta la macchina con i vari ospiti. Ripeto, il primo giorno avremo i sindaci dei principali del territorio, Ricci per Pesaro, Gambini per Urbino, Seri per Fano. Il giorno dopo abbiamo Carloni della Regione che ci parla dell'aglutura. Abbiamo voluto prendere la parte politica e la parte pratica, perché poi ci sono dei piccoli produttori che fanno delle eccellenze interessanti nel territorio, quindi tutto per, ovviamente il tema è il cibo, la salute, per dare degli approfondimenti. Abbiamo visto tra gli interventi ci sarà anche quello di Roberto Bartolini, che è nostro grafologo di riferimento, è venuto ospite in una puntata. Ci è piaciuto talmente tanto a noi e ai nostri telespettatori che è diventato un ospite ricorrente. Lui ha una storia sua e interverrà con la figlia, insomma c'è anche lì un trasporto di storie di vita vere. La cosa di Bartolini, anche io lo conosco da tempo, un giorno l'ho detto, Roberto, ti piacerebbe fare questa cosa? Sì, cosa facciamo? Io però non volevo fare, perché il concetto della sua parte era dedicata alle esperienze, e lo volevo chiamare per fare un'esperienza. Ma il rischio era che se ne prendevo due o tre di protagonisti, forse un po' gli alcolisti anonimi. Quindi ci siamo inventati questa cosa, e lui la farà in modo giocoso, infatti il sottotitolo dalle lacrime alla sitcom, di tutte quelle che sono le domande che noi facciamo quando siamo vicini a qualcosa di malattia e gli imbarazzi che succedono. Come stai? Se tu stai male, io mi aspetto che tu mi dica che è male. Bene, già questo spiazza e da lì giocheremo in questo modo, perché sarà un angolo particolare. Hai interagito con tutti gli ospiti, per chiamarli così, anche sui contenuti e su queste cose, oppure hai lasciato fare un po' loro, limitandoti a fare una supervisione? Assolutamente no, io ho scelto le persone che mi interessava portare lì, quindi è stata una cosa scelta a tavolino. Poi, è chiaro che concordo un po' con i giornalisti quello che succederà, per rendere stimolante la cosa, però è tutto scelto a tavolino, per cui io penso che forse ci siamo dimenticati un pezzettino che è l'alimentazione per la terza età, forse siamo stati un po' meno, non c'è un salotto dedicato, ma dallo svezzamento in poi a qualsiasi tipo di cucina qualcuno ne parla. C'è tutto. L'obiettivo dell'evento è continuare a tenere questo faro acceso sul libro e anche continuare a proseguire con questa raccolta fondi, perché voi naturalmente avete un obiettivo importante che è quello di svincolare qualunque sarà il risultato di questa ricerca dalla morsa dei brevetti. Avete acquistato l'opzione sui brevetti. Sì, allora il vero obiettivo, la due giorni, torno al di prima, saranno tanti contenuti utili, che poi uno si potrà rivedere con calma quando vuole, ma il grande obiettivo è, faccio un grande evento, così coinvolgo tanti imprenditori, tante persone a aiutarci su una cosa concreta per finanziare l'ultima parte della ricerca. Quindi questa è la cosa vera, per cui in realtà qualsiasi imprenditore che ha l'ascolto, che ha voglia, non è la classica sponsorizzazione, come dico io, dove ci metto il logo, dove è visibile. Sì, ci metto il logo, ma è anch'io azienda, ho contribuito nel mio piccolo, come dico io, con un soldino a una cosa che poi, chiaro che è nel territorio, ma poi probabilmente avrà un respiro più ampio. Quindi questo è l'aspetto fondamentale. Mi sono perso l'altro... I brevetti. I brevetti, sì. Io volevo... Diciamo che stiamo... Il mondo dei brevetti delle case farmaceutiche è un mondo molto complesso, che io non conosco fino in fondo, però è chiaro che un po' di pezzi li ho imparati. Noi stiamo finanziando una ricerca, la ricerca dietro delle molecole che sono brevettate, per cui questa è un'operazione fatta all'università. A un certo punto abbiamo detto, ma che cosa succederà dopo, visto che stiamo andando avanti? Succederà che probabilmente quei brevetti possono essere appetibili per qualcuno, per farci poi un farmaco, eccetera. Ma quel qualcuno chi sarà? Che intenzioni ha? Sarà bravo o non sarà bravo? Quindi per evitare qualsiasi dubbio ho detto, opzioniamo l'acquisto dei brevetti. Quindi abbiamo tolto dall'università un altro owner, che era il rinnovo annuale, quindi costi annuali di rinnovo, per essere noi a poter seguire il processo. Quindi ti parlo da comunicatore adesso, mi piacerebbe poter dire fra un anno, non tanto di più, ve lo ricordate quel papà che ha preso la tesi della figlia, ci ha fatto un libro e ha fatto partire una ricerca? E' lo stesso papà oggi che con la ricerca che è andata a buon fine, va a negoziare con le case farmaceutiche, che questa cosa abbia un senso, vada avanti e possa ridare alla fondazione magari altre economie per qualche altro progetto, perché tanto comunque io con la storia di Francesca ci andrò avanti per sempre. Certo, anche per avere Francesca con te per sempre. Assolutamente. Questa storia secondo me racconta tante cose, ma tra queste racconta anche due aspetti, si può fare e si può fare svelto. Certo. Non c'è bisogno di tempi biblici per mettere in piedi, cioè quando tutte le volte che noi pensiamo al discorso della salute, te guarda in qualche modo la diffidenza che c'è nei confronti del vaccino anti-covid che ha come primo argomento, ci hanno messo troppo poco tempo e c'è questo timore. Perché? Perché siamo abituati mentalmente a pensare che i tempi debbano per forza essere allungati a dismisura. La tua storia dimostra che invece mettendosi sotto, nonostante la pandemia poi, perché mi domando se non ci fosse stato il rallentamento della pandemia, insomma ci mettevi qualche mese, però con i sé non si può decidere che cosa succede. Insomma, questo credo che sia la cosa che resta, insomma. La velocità e la accuratezza stanno bene insieme se sono fatte con professionalità, con attenzione, con una visione importante. Cosa lo diceva anche Francesca? Che qualsiasi cosa si può fare, anche le cose difficili possono essere fatte. Perché è chiaro che io personalmente sono mosso da questo entusiasmo che dicevo prima. Ho scoperto entusiasmo anche contagioso, perché mi ricordo con la prima presentazione del libro che ho fatto pubblica, mi sono trovato dopo la presentazione tante persone in fila che volevano l'autografo e questa cosa io non ero preparato. Cioè mi ha emozionato in maniera incredibile, perché avevo di fronte persone emozionate. Io dicevo ma non sono io l'autore, cioè io ho preso insieme a un pezzo, cosa che poi ho imparato, eccetera. Ma in qualche modo anche l'entusiasmo che spesso so che esce è contagioso anche per chi ha avuto storie simili alla nostra che magari non ha reagito in questo modo, ha reagito in un altro modo. Per me è stata una forma di reazione che però è un po' come una droga, cioè deve essere sempre attiva la cosa, cioè deve essere sempre il riflettore acceso, perché è chiaro che se spengo la luce poi mi ricordo quello che è successo e dico perché? Cioè dovrebbe essere vietato per legge perdere un figlio. Infatti, quello è sicuro. Non c'è neanche un nome per un genitore che perde un figlio, non c'è la parola italiana che lo identifica. Questo la dice lunga su quanto sia poco in linea con quello che noi pensiamo che sia naturale. Va bene, Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi. Incredibilmente il tempo, io lo dico sempre, ormai è diventato un luogo comune, i telespettatori ridono ogni volta che lo dico probabilmente, ma il tempo vola quando si parla di cose interessanti e noi cerchiamo sempre di trattare cose interessanti nel nostro programma. Ricordiamo che nel Tg di questa sera verranno date le indicazioni su quelli che sono i contenuti che Rossini TV condividerà anche con le dirette sul canale 633, ma naturalmente ci sono tutti gli altri strumenti per seguire le due lunghe dirette dalle 10 alle 19 delle due giornate. Poi naturalmente attraverso la pubblicità, le promozioni e anche le repliche di questo programma, sicuramente tanti altri riusciranno a capire l'importanza di seguire questa iniziativa e perché no anche di comprare il libro. Il libro si trova in libreria regolarmente? Il libro si trova in libreria, su Pesaro c'è, perché poi è distribuito da noi, quindi non c'è da tutte le parti, però io dico se non c'è, andate in libreria dite chiamate la fondazione e glielo diamo, oppure sul sito fondazionepirosi.it o su qualsiasi libreria online. Perfetto, grazie ancora. Grazie, siamo alla pausa pubblicitaria, subito dopo torneremo con Alessandro Piccini, il sindaco di Cantiano, restate con noi, restate con Casa Rossini. Marco, grazie.